Napoli già pensa a come rinforzarsi per il mercato, addirittura sarebbe facendo un pensierino per quanto riguarda il calciomercato di giugno, ma se vuoi più video come questo ovviamente iscriviti al canale. Il nome più in poca interessante è quello del marocchino Unai che gioca nell'Angers, pare che il Napoli lo voglia fortemente per giugno, ma l'Angers abbia chiesto 25 milioni, un po' too much, però devo dire che se lo prendesse farebbe veramente un ottimo acquisto, che ne pensate?